Ecopneus ha raccolto e riciclato in Calabria nel corso del 2022 10.132 tonnellate di pneumatici fuori uso ed esaudito, oltre 2.200 richieste di prelievo presso i commissi del territorio. Lo rende noto con un comunicato alla stessa società senza scopo di lucro, che rappresenta il principale operatore della gestione degli pneumatici fuori uso in Italia. La Calabria, secondo Ecopneus, è la decima regione in Italia per quantità di pneumatici fuori uso generati e raccolti nel 2022, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella regione. Nello specifico, le tonnellate di pneumatici fuori uso raccolte sono state 3.542 a Cosenza, 2.888 a Reggio Calabria, 1.658 a Catanzaro, 1.380 a Crotone e 664 a Vibo Valencia.